Prima di tutto vorrei fare complimenti ai miei compagni di squadra, alla società, che abbiamo preparato molto bene la partita. Vorrei fare anche complimenti alla squadra avversaria, loro si meritano di essere secondi in classifica, sono un'ottima squadra, ma noi abbiamo dato tutto per questa vittoria e abbiamo meritato di vincerla. Ovviamente durante la settimana abbiamo avuto grossi problemi con gli infortuni, con le malattie, non eravamo neanche in dieci. Ci dà una grande soddisfazione di vincere questa partita in casa davanti ai nostri tifosi che sono meravigliosi. Io ricevo mille messaggi durante la settimana, loro ci credono in noi, noi ci crediamo e tutti uniti possiamo fare grande cose.